Musica Buona domenica a tutti ragazzi sono Midino e bentornati con il dodicesimo episodio delle top 5 plays Oggi siamo qua con un episodio davvero bellissimo con delle clips fantastiche Iniziamo al quinto posto troviamo Ovden Bonzi che spara col PDV nella finestra Sai che c'è qualcuno e decide di punirlo così E prende anche la medaglietta per le mille uccisioni Proprio in quell'uccisione proprio la situazione è perfetta Guardate la tira a caso Poam col Tomoc bellissima clip di Ovden Bonzi Al quarto posto troviamo Robobot con un nome molto molto funesto Anche se non so neanche cosa vuol dire va bene lo dico lo stesso Sta giocando su 6 contro 6 deathmatch a squadra su Nuketown veterano E con un M27 Guardate come riesce a destreggiarsi nello spawn Davvero riesce a uscire su ogni nemico davvero sempre in anticipo Senza sbagliare quasi neanche un colpo anche da scossato Non si arrende e continua ad entrare nello spawn 1, 2, 3, 4 fa una quad feed Poi ha il colpo fulminante Pensate che la clip sia già finita Ne uccide un altro nel frattempo Ne ha già uccisi tipo 7, 8 Tira il colpo fulminante La clip non è finita Attenzione Sestupla Davvero bellissima Se vedete che ne sono usciti 7 Perché uno era un compagno Comunque fa una sestupla davvero da paura Al terzo posto troviamo il nostro grandissimo e amatissimo Ribbo92 Che ormai è consutudine trovarlo nelle top Sta giocando con l'M27 Ma credo che per questa clip Oltre all'inizio c'è solo un modo per commentarla E decido di farlo così Ok basta Mi ero quasi reso ridicolo Però non si poteva commentare Altrimenti Fa un'uccisione a catena da paura Davvero Con un M27 diamantato Davvero davvero figo Bellissima clip per Ribbo Al secondo posto Troviamo invece Shox Che ormai è diventato consutudine Anche lui come Ribbo Trovarlo nelle mie top Dovrebbe la 14.000 Volta che arriva E guardate Ha già fatto 3 uccisioni col pompa Demolizione su Nuketown Un altro Un altro Un altro Cioè le commento sempre uguali Ha già fatto l'uccisione a catena Per chi non l'avesse notato Però continua Non si arrende Ne uccide 10 Fa una 10 manfeed fantastica Al primo posto Troviamo una clip fantastica Di Sura del canale Giastromagna Che salta con l'MSR Boom Tripla in un colpo Di cui doppia headshot È una cosa sconcertante Come l'ha fatta A caso Doppia Di cui tripla Tripla Di cui doppia headshot Guardate qua Fantastica clip di Sura Comunque ragazzi Infine vi dico che Se magari mi avete già mandato la clip E non è Non è in questa top Non è perché non è stata accettata Bensì perché Dovete capire che ne avevo Davvero tantissime Quindi ho messo solo le migliori Quindi non rassegnatevi Continuate a mandarmele Anche se l'avete mandata settimana scorsa Potrebbe uscire settimana prossima E via così Comunque ragazzi Spero che la top vi sia piaciuta Vi invito a lasciarmi Tante clip Per messaggio privato Quindi ragazzi Lasciate un bel mi piace Un bel commento Se ancora non lo siete Iscrivetevi al mio canale Per oggi Damidino è tutto E Bella